sono arrivati bene sì i baiocchi al pistacchio bene sì i baiocchi al pistacchio sono arrivati e questo ha causato in me uno squilibrio glicemico pazzesco nel dire ne assaggio uno non ne assaggio uno che devo fare non lo devo fare cosa devo fare sono biscotti sono carboidrati i carboidrati danno energia al corpo umano il corpo umano carboidrati sì dai assaggino e poi c'è il pistacchio i love you mulino bianco ciao ciao